Gli uffici sono quelli dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture. A fare gli onori di casa è il direttore Thomas Matà, insieme al presidente della provincia di Bolzano Arno Compatcher. L'occasione è data dal bilancio dopo due anni dall'entrata in vigore della nuova legge sugli appalti. Uno dei fiori all'occhiello della pubblica amministrazione altoatesina, sempre più vicina alle piccole e medie imprese, vero cuore pulsante dell'economia locale. Innanzitutto la nuova legge ha riportato una competenza che è andata persa in precedenza in Alto Alice, siamo adesso noi di nuovo a gestire questo settore strategico e lo stiamo facendo ovviamente per le nostre imprese, in collaborazione con le nostre imprese, con tutte le stazioni appaltanti, i comuni, i comprensori, ma ovviamente anche la provincia stessa, per ottenere il miglior risultato che vuol dire fare delle gare dove hanno un accesso facile le piccole e medie imprese del nostro territorio e dove riusciamo anche poi a dare queste opere, le forniture e le prestazioni che sono chieste alle imprese del nostro territorio. Il volume degli appalti è in crescita ed è arrivato a quota 1,18 miliardi. L'82,7 per cento delle aggiudicazioni è andata ad operatori economici con sede in Alto Adige. Si è assistito ad un drastico calo dei ricorsi passati dai 39 del 2014 ai 19 del 2016. La nuova legge provinciale sugli appalti è entrata in vigore nel gennaio del 2016 recependo le modifiche europee in questo settore. Numerose le novità introdotte, tutte a vantaggio delle imprese locali e della riduzione della burocrazia e i diretti interessati, imprenditori in primis, non possono fare altro che confermare. Da come possiamo vedere la legge provinciale per noi tutto sommato semplifica in tanti aspetti il processo burocratico del mondo delle gare. Un esempio proprio pratico da quel punto di vista può essere proprio la lista dell'operatore economico in cui tu ti registri e sei già abilitato per tutte le gare future senza dover come si faceva prima o come si fa in tanti altri posti d'Italia ancora dover produrre tutto un plico di documentazione e dichiarazioni. Per noi la stabilità della nuova legge è molto importante perché così possiamo lavorare meglio e possiamo partecipare e sappiamo che non ci sono problemi con tutto il sviluppo delle gare praticamente dove partecipiamo. A confermare la bontà della normativa provinciale sono anche gli enti locali. Spesso sono proprio i comuni a dover gestire un carico burocratico decisamente pesante. L'amministrazione cittadina di Brunico è un esempio di come la nuova legge sugli appalti sia a vantaggio dell'intera collettività. Il vero problema dell'Italia è la burocrazia. Con questa legge provinciale abbiamo uno strumento in mano che ci facilita il procedimento degli incarichi dagli parti pubblici. La nuova normativa non solo permette di avere meno burocrazia ai prezzi inferiori ma anche una maggiore qualità. Tra le varie novità introdotte figura l'abolizione del contributo di intermediazione e la possibilità di integrare la documentazione senza incorrere in esclusioni o penali. Il nostro elenco telematico degli operatori economici è una finestra. È una finestra che dà visibilità e che dà opportunità alle imprese di poter aggiudicarsi lavori, servizi e forniture. Quindi un'iscrizione è una chance che va presa. Le procedure pubblicate sulla piattaforma del sistema informativo contratti pubblici sono aumentate per numero più 11,7% e per importo più 17,1% rispetto al 2015. Le imprese locali si sono aggiudicate circa il 60% dell'importo complessivo. Con questa nuova legge sugli appalti siamo riusciti a aumentare il volume degli appalti in modo notevole. Abbiamo raggiunto la soglia di 1,2 miliardi come volume complessivo di tutti i bandi che sono stati fatti nel 2016, un aumento del quasi 20% e se vediamo la situazione del resto del paese dove nello stesso periodo c'è stata una diminuzione netta oltre l'11% e questo vuol dire che lì purtroppo è tutto fermo mentre noi stiamo adesso andando avanti con tanta forza e velocità. Luca Bondini, direttore dell'agenzia IFaber che segue il processo di digitalizzazione, ha sottolineato che in provincia di Bolzano più del 90% dei procedimenti oggi avviene proprio in forma digitale, un dato che non ha eguali in Italia visto che la media nazionale è circa del 20-25%.